Prima ho citato, Davide ha citato mess, è una parola che anche essa è tanto tempo che si vede, di fatto è una parola anch'essa che è stata costituita recentemente, anche se la tecnologia che sottende, è una tecnologia che esiste da diversi anni, pensate che in Fiat questo tipo di tecnologia che si chiamava in un modo diverso esiste da 74, quindi non è una cosa così incredibilmente recente. Cosa vuol dire mess? Vuol dire un sistema che controlla la produzione. Di fatto è poi composto da diversi strati, lo vedremo successivamente, e consente di portare le informazioni in modo immediato, per consentire l'immediata reattività, l'immediata capacità di risolvere eventuali situazioni di stallo. Ma vorrei fotografare un po' la tipica situazione che noi troviamo nelle aziende, direi che in forte percentuale, siamo oltre al 65% delle aziende italiane. che cos'è un'azienda senza un mess? Beh, allora da una parte abbiamo la costituzione su un sistema presumibilmente informatizzato degli ordini di produzione, dopodiché arrivano degli strumenti che sono magari Excel, anche piuttosto che documenti Word ben stampati o così via, ma che di fatto non sono più nel sistema centralizzato. Quindi l'utilizzo, la compilazione di questi strumenti non dialoga. Quindi dall'ordine di produzione io ho un piano di lavoro, dal piano di lavoro ho la raccolta dati e qua abbiamo dei casi in cui addirittura i dati vengono raccolti in forma semiverbale, diciamo vengono raccolti a post o vengono raccolti con una compilazione di modelli di carta che, o se vogliamo anche su computer comunque strumenti non colloquianti, senza un controllo della qualità del dato. Quindi supponiamo che una certa cella debba scrivere un valore che va da 2 a 10, io mi sbaglio umanamente parlando e scrivo 11. non è che il sistema si accorge del mio errore piuttosto che si accorge del fatto che il valore non necessariamente è corretto. Oppure magari scrivo banalmente 4 e invece il dato da rilevare sarebbe 5, ma anche in questo caso l'input non è coerente. A questo punto io posso gestire lo stato di avanzamento della mia produzione, della mia situazione complessiva, ma questo avanzamento è ancora una volta su carta, fino ad arrivare finalmente in un tempo finale, quindi tutto il tempo di attraversamento della produzione diventa una black box, il tempo finale è a tutti gli effetti caricato su un sistema centralizzato, il consuntivato e magari questo è proprio il nostro IRP. Allora perché serve un MESS? Beh ovviamente perché senza MESS io ho questo meccanismo in cui i dati di produzione sono manuali o approssimativi, le statistiche e gli indicatori manuali sono approssimativi anch'essi, la capacità di intervento è per sua natura al termine del processo stesso e quindi le strategie di correzione, gli interventi, le capacità di correggere e di consuntivare determinate informazioni è poco efficace. Di contro con un MESS che cosa ho? Ho il fatto che il dato di produzione è automaticamente recuperato e quindi è immediatamente disponibile, è utilizzabile in modo diretto anche da sistemi di intelligenza artificiale o comunque di sistemi automatici di valutazione che mi consentono di avere dei segnali di qualità, di problemi sulle linee, di problemi di altra natura e quindi mi costruiscono anche dei sistemi statistici efficaci e posso finalmente avere delle strategie reattive, quindi non a consuntivo ma in modo proattivo. Quindi il motivo per cui esiste il MESS è questo. Quindi chiaramente il flusso a questo punto è tutto legato a meccanismi di trasporto del dato tra componenti diciamo hardware e software, quindi gli ordini di produzione arrivano un piano di lavoro che anch'esso è su un sistema centralizzato che a sua volta dà ai terminali e agli operatori le informazioni, le informazioni vengono alimentate direttamente dalle macchine o da sistemi SCADA che sostanzialmente sono interfacce specifiche per le macchine di produzione e non. Queste mi danno in un tempo continuo discreto le informazioni sullo stato avanzamento che determina un consuntivo. Questo flusso è continuo e quindi mi consente, come dicevo, di avere capacità reattiva. E quindi vorrei spiegare con due slide, con due grafie che cosa è e non è. Non serve a controllare le persone il MESS. A me tante volte è capitato, dice ma mi controlla come lavoro. No. Controlla che cosa? Controlla i costi. Allora, in modo indiretto, se vogliamo essere corretti, controlla anche che i nostri operatori e le persone coinvolte lavorino in un modo coerente. Quindi può essere inteso che alla fine l'output è anche legato al fatto che un'operazione stimata in un'ora e mezza, se viene svolta in due, c'è un qualche tipo di azione da fare. Ma complessivamente non sta operando come attenzione sull'operatore, ma attenzione sull'insieme del sistema. E quindi è necessariamente uno strumento per la gestione dei costi. Ma perché? Perché il costo è quello che alla fine ci consente di avere, di poter utilizzare degli strumenti per calcolare e determinare un maggior profitto. Il pensiero convenzionale, cioè quello che abbiamo ancora adesso, ma l'abbiamo avuto per tanti tanti anni, è che se io voglio avere un profitto maggiore sul costo, aumento la quantità di profitto. Questo chiaramente può andare bene in un momento in cui il mercato, mi consente di avere pochi confronti, pochi concorrenti e soprattutto non è il mercato che determina il prezzo, ma sono io che lo produco, diciamo io che produco il bene o il servizio. Di fatto adesso la situazione è ben diversa perché è così. Se io voglio avere un profitto più interessante, devo agire sui costi, non posso alzare il prezzo. Diciamo che l'unica entità che alza i prezzi se gli servono i soldi è lo Stato. Lo Stato aumenta le tasse e ovviamente di fatto aumenta la sua profittevolezza. Quindi a questo punto il MES è uno strumento che crea consapevolezza e aiuta a conoscere i costi. È chiaro questo passaggio, quindi non è uno strumento di controllo del personale, ma è uno strumento che mi aiuta a ottenere questa parte del prezzo di prodotto aumentando la nostra profittevolezza.